e e secondo me avere preso 5 o f se vinciamo questa faccio 600 vittorie E allora posso andiamo per le 600. Andiamo per le 600 raga. Io non so se le ho raggiunte le 4000 mi faccio vedere Dai stai un po' esagerando con 4000 3981. Aiaia e festone con 4k kill raga attenzione 4k vittorie che kill? 80.000 80.000 ah si anche perché io 4000 kill per e festo se le fai in quattro giorni nel senso c'è un fottio di gente festone Ah si? E li saluti. Va bene. Ciao Mamma mia so già Gucci A terra 1 A terra quello in aria Era tanto per dire Tranquillo Morto il tizio Figlio di madre ignota Lei è da solo lì Io sono da solo qua Sto arrivando Venga venga per favore 22 secondi da lei Ho bisogno che lei arrivi A terra un altro Arriva il socio Non ammazza F A terra un altro killato Nice Dai 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 perché c'è l'era il combat Grazie F Forse te lo sai che lato tuo io ho visto la kill No è impossibile No no Aspetti aspetti silenzio Comunque non era il combat Era il tattico Serio? Eh quello che farà da me era il tattico Vero tu dove ce ne erano un altro ancora Grazie per la donation raga Mi dovrei curare o 30 di vita Poteri qua Vieni qua Del coraggio Ho c'ho mai di culo che fa da me Devo soltanto raggiungerla Dove è lei? Sì la vedo cioè vedo la freccetta E sotto Vedete la mano? Eccomi A terra Dio santo efesto gli manca un colpo Non ti muova non ti muova non ti muova Vado avanti Vado avanti Aspetta aspetta scusi E' qua sopra eh Eccomi sono giù Stupido boss Grande F Ti distruggo la vita 3 kill 5000 visual 5000 visual F Ma mi sta ressando Io non vedo che mi resta F Ah ha ragione Mi scusi Stavo andando la chat 5000 visual LOL GG Ma noll Il volo Eh ho preso Colpi pompa N1 Venga qua Io vedo Ti faccio il video questo Grazie Quante kill? Io 3 Io 3 pure Questo Cestino Buono E' uno cedino per lei Arrivo subito Non penso che ci sia molta altra gente qua No Credo un altro team alle case Hanno restato Hanno restato al bus Ti faccia lo scildino E poi venga con me I veloci della luce Vai sono scildato Ha uno di vita No io mi da incazzare questo gioco Stia calmo Stia calmo Si ricordi che io ho un cecchino Le hanno stilata Sono io eh Sono io con le granate Ok Non c'è nessuno Ah ok ok Pensavo che c'era gente C'è l'amico suo ma non so dove sia Stiamo uniti Stiamo uniti E' vicinissimo l'amico L'ha curato Eccolo qua E' one shot Bravo E' morto Scusami tiro dietro Però GG Eh rocket Rocket Bella Valle de Gino Grazie mille alla sabbe Chico benvenuto La sabbe A sabbe festone raga Mi raccomando Grazie anche Grazie Filippo Sugherello Perché sei bannato Adesso ti smanno Com'è possibile che sei bannato Grazie di cuore Perché evitate di lei Mi chiedono perché siamo di lei Perché siamo persone che si rispettano Non abbiamo 14 anni So che già la Adesso Dai a che andiamo Ho sbaglio Gente sopra il tetto Morto a terra 275 L'ho vista in diretta GG Questo è stato un Non ti faccio restare Secondo me è un quick scoop Ok morto Noll Thank you thank you Poi hai avantiato uno scillino? Eh appena sono appena fatto uno Lascio il lanciagranite Anche se mi dispiace No non lo lascio Eh Lascio la mitraglietta Lascio la mitraglietta Se tu fai ti ventro con il lanciagranate Ma scherzi 6.000 visual No ho preso le keywords Ho preso le keywords Ho fatto 6.000 visual Ho preso quegli esteri Ho preso Fantastico Le ho pingato altri tre scilline Devo riportarli Che sono Assolutamente Guarda che c'è qua Arrivo Grazie di cuore Che una save frost rocket 6.000 visual Così Sono le keywords Degli inglesi Sicuro Potrebbe diventare violento Come teaser Raga 7.000 Pazzesco 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 È impazzita il teaser Quello di ieri Mi ha fatto In 27 ore Mi ha fatto 9.500 Quello di ieri Il teaser Qua ha fatto 7.000 In 20 minuti Qua c'è una scidina E' uno scildone Arrivano 8.000 Non ci credo No no Stanno prendo per il culo Adesso Piano 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 Non è a 7.000 A 6.200 Easy easy Andiamo A me 6.200 Sono tantissimi Andiamo C'è una R blu Lo prendo volentieri Dove Ok Altri rocket No Rocket No Non è avutato Il lanciare Ne ho 6 Andiamo giù al magazzino Qua sprofondo Vai Ma so bene Con la Che gente a magazzino Che gente a magazzino Sopra i magazzini No 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 Qua sotto Fin vedo che costruiscono Mi chiamato di sei già sotto Porca troia Arrivo Altra gente che pusha Cerco di prenderle alle spalle Chiudere quando lanciate avvertimi che se non si muoie Mi scusi Uno è morto 72 Uno è bianco Questo è morto Butta un'altra sculcina Stupido bot Scusami F Pensavo a vestire Dove è la gente Hai visto gente? No l'ho sentita Lascio Lascio Le granate Non ce l'ho più lancia granate Non c'è perché Build da molti quanti così tanto Shieldini qua se vuoi Hai preso Full Faccio un po' di legna Grazie Red Devil Eh fast web Andiamo Proseguiamo ancora dritti verso dove c'è altra gente tipo Quante kill f nei 7 Io 6 Io 5 5 Ma oggi che è un fire Non è che sono un fire Io gli ho detto A me succede una cosa molto particolare negli apprendimenti Magari non capisco un cazzo Poi da un giorno mi sveglio Ed è come se l'avessi fatto per tutta la vita Mi viene naturale Non so perché Sì 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 È assurdo Ma sempre Non so perché Si vede che può tipo riposando magari il cervello Prende la memoria muscolare Che cazzo ne so figa sempre Da un giorno all'altro mi dico il chio Ma come cazzo è possibile E oggi ho alzato ancora la sensibilità Grazie Red Devil Quanto ha? Quasi 0,70 Le ricordo che io due settimane fa giocava 0,46 Mamma mia pazza Secondo me serve tantissimo Grazie Red Devil Grazie raga per dirmi quanto va Ognuna all'altro Allora Per come lo muove lei Con le tense basse Non potrà mai diventare Uh Perché lei a me è uno che è Boom 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 Ma è un mouse in velocità assurde Effettivamente serve E io ho provato Ci riesco anche a giocare con quelle basse Ma poi se il giorno mi sveglio Come non voglio muovere in veloce Non mi muoverò Hai capito è quello No è troppo difficile Ce la fai Però è difficile No no bisogno Medio alta Io punto ad arrivare nelle prossime tre settimane a 100 come ce l'ha lei è quello che ho io poi più di così non vado anche perché io non lo muovo tantissimo nuovo il mouse ma non è davvero è io devo imparare sai cosa quando sbaglio io quando faccio cazzo sei lontano arrivo però qua non l'avvertivo che rimanevo secco ma da tutti col barrett stanno ce la trovo le madri ce l'ha un secondo di tempo io sì io sto prendendo il vortico ma dove sono aperto magazzino verso magazzino stavano dalla porta opposto allora no è il vortice se non mi pull avano mentre si stanno fai dando io clean up che fai il nappo non so cosa voglia dire ma va bene subito bot nuovo sto arrivando sotto puttana 130 sto arrivando subito cazzo c'è uno qua di fianco arrivo non so ma mi ha sparato da vicinissimo infatti a quattro ventuno 106 106 oh ci credi che non l'ho preso con un colpo l'altro credo perché gli ha fatto 200 io complessivi qua sotto l'altro grazie non volevo stilla di la faccia faccia le kill faccia le kill tutto un cazzo venga qua che la faccia pullare le cilidini le servono no mi scusi f è giocata male giocata male ma non è un problema abbiamo distrutto li ha distrutto il dono può portarlo lei non lo sto bevendo no dica in più in più si è lasciato uno si è lasciato la porta stai jump magari ne metto giù una davanti porca puttana 62 ha già già a 62 dalla vita questo arrivo sono sconvoltissimi dalla vita eccomi 22 che un campati l'ho detto con lei 36 15 6 dove questo figlio di albrega dalla dietro di lei va bene va bene stava sparando a me gigi ma per chi la faccia che io ho 17 grazie tommy player grazie bro 17 abbiamo usciamo usciamo che possiamo non fare le cose andiamo andiamo a 5 ma non è la seconda a magappa qua 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 paperino paperina mini pluto arrivo mi butto su mi butto su quelli che sono in difficoltà così l'ho cazzo è quello che stava sparando sul tetto figlio di puttana e ammattati due non si non si affretti a città no devo scendere devo scendere perché non so dove sono però lo scelto ne è ben gradito si gliela do va f è veramente la pace lei ci sparano da 273 puoi ci sono io 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 stanno davanti a 15 vedo io no arrivo che tua madre dove lo rincola ancora non so neanche un ragazzo andato ok 78 bianco è andato quello che ha killato lei devo farmi scendere un secondo non faccio scappare non posso devo scendermi se non muoio mi dà ancora un secondo la prego arrivo attenzione quello col bar 149 morto stupido bot buono quante kill 17 lei 6 17 23 siamo in 4 venga venga aspetti stia fermo speriamo che siamo 2v2 che si è scammazzando di loro l'ho fatto un 77 bravo per averlo finito ok 2v1 andiamo a prendere l'ultimo aspetta mi curo non vorrei rischiare arriva lui è stata in blu non abbia fatto blu gli ho fatto blu e di due bianco 21 blu tanto dovrà sono dovrà non so anch'io mi segue il lato grande record e gigi grande vai che andiamo